Anche quest'anno abbiamo deciso di partecipare con l'Archivio Atelier Farahildiz Vandenbrouck a Intour, iniziativa di Museo City, perché è un'occasione importante per intercettare un pubblico diverso, molto più allargato rispetto a quello di nicchia del mondo dell'arte contemporanea e allo stesso tempo per noi dell'Archivio è importante perché ci permette di conoscere delle realtà meno note che sono vicine o lontane al nostro spazio. A fine ottobre sarà possibile vedere nel nostro spazio alcuni materiali d'Archivio che appartengono al periodo in cui Farahild Vandenbrouck ha lavorato con Versace e con altri importanti brand di moda milanesi. Arte, moda e infiorescenze. L'anno scorso è stato un vero piacere scoprire il centro di ricerca Gianfranco Ferré con l'Archivio Moda e una collezione di opere d'arte.